I bookmakers più incalliti hanno già cominciato a scommettere online, dando Matera vincitrice con Lecce seconda. Una corsa a due che sembra dividere leccesi, consci dei punti di forza del capoluogo barocco, ma anche di quelli di debolezza. Io penso che ci sono molte cose in realtà da rafforzare a Lecce affinché possa essere una capitale della cultura europea, molte. Se l'antagonista è Matera non dovrebbe esserci partita fra Lecce e Matera, sarò anche di parte, però è come se in Champions giocasse il Manchester contro il Lecce. Lecce ha molto di più di Matera, Matera ha i sassi, oltre quello non credo che abbia altro, gli manca quello che è il dato essenziale della cultura, cioè la vivibilità. Personalmente tifo per tutte e due, perché c'è mezzo cuore anche a Matera, avendo anche i parenti, e quindi ho uno o l'altro, per me va bene. La distanza che in base all'agenzia online di scommesse maltese Bet Rebels divide la città dei sassi da quella del barocco è minima, con la prima quotata a due, la seconda a due e venti. Con il comitato promotore per la candidatura pronto allo sprint finale in vista della visita di lunedì prossimo della delegazione esaminatrice. Io non sono uno che gioca, perché non credo che quando si scommette con i pronostici si vince, quindi crediamoci fino in fondo, a prescindere dal Boosmaker.